MNews.it Channel, l'informazione ha una sua prospettiva. Grazie per la visione. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 risultati di giustizia che vengono raggiunti. L'operazione di oggi è molto importante per i motivi che ora saranno illustrati perché fa luce su una vicenda che ha amareggiato tutti quanti noi la morte di Maria Concercia Cacciola e poi costituisce un po' più importante un ulteriore, un po' più importante alla costa dei pesci. Ma credo di poter dare la parola al Consiglio. Allora al Procuratore di Palmi, al collegato. Grazie. Come forse già sapete questa mattina i carabinieri e la Polizia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi su richiesta della Procuratore di Palmi nei confronti di tre persone. In realtà una si è resa irreveribile. Queste tre persone sono i genitori di Maria Concercia Cacciola e il fratello che non è stato accostato in Franciano. Cacciola Gregorio, il padre, la madre Lazzaro Anna Rosalba, il fratello di Cacciola Giuseppe. L'accusa nei confronti di Costoro è quella di avere ripetutamente e continuativamente per molti anni sottoposto a maltrattamenti la Maria Concercia Cacciola fino a determinarne la morte del suicidio. È un'ipotesi che si è fatta a strada immediatamente dopo la morte della Cacciola stessa e che ha avuto un ampio riscontro dalle indagini che sono state effettuate dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Riteniamo di avere raggiunto una soglia di gravità iniziaria come peraltro il giudice ha confermato abbastanza corposa nei confronti degli indagati e naturalmente le indagini continuano. In sostanza la Cacciola era stata sottoposta a tutta una serie di applicazioni della libertà anche fisica ma soprattutto psicologica e nel momento in cui ella si trovava fuori in località protetta era stata attuata dai familiari una strategia ben precisa per indurla a ritrattare le sue indagazioni e a rientrare in famiglia facendo leva soprattutto sull'affetto di madre nel senso che anche i figli il fatto di la minaccia di non farveli più vedere e tante altre cose avevano indotto la Cacciola dapprima a commettere l'errore di rimettersi in contatto con la famiglia e successivamente si è pure con tentennamenti vari a rientrare in famiglia e da lì essendo stata costretta successivamente a ritrattare le dichiarazioni anche in questa costruzione abbiamo raccolto ritengo prove a contatti. Qua finisce la parte della procura di panni e comincia quella di via. Sì c'è anche la contestazione naturalmente dell'altro reato di avere costretto la Cacciola la ritrattare commettendo appunto i reati costringendo naturalmente i reati di autocalumnia e di falsa testimonianza. In questo riteniamo di avere dimostrato ampiamente che le accuse che immediatamente dopo la morte della Cacciola i genitori supportati dai loro difensori avevano mosso nei confronti dei carabinieri molto più esplicitamente ma anche un po' più velatamente nei confronti dei magistrati che avevano condotto le indagini relativi alle dichiarazioni della Cacciola sono del tutto infondate anzi si sono rivelate clamorosamente false come gli accertamenti hanno investigativi hanno pienamente dimostrato. Ripeto da qui finisce la competenza della procura di panni e comincia quella della biblia. Il biblia sottoposto a un provvedimento di fermo eseguito da Rosso è 9 persone tutte appartenenti alla cosca pesce e sono soggetti le cui condotte sono assolutamente attuali perché sono emerse a partire dal giorno successivo alla cattura di Francesco Pesce che fino a quel momento e durante la latitanza aveva occupato svolto un ruolo apicale all'interno della cosca di appartenenza e questo provvedimento trae origine si fonda su tre fonti di prova particolarmente importanti e che sono innanzitutto un biglietto, un pizzino che è stato sequestrato a Francesco Pesce il giorno in cui Francesco Pesce fa ingresso presso il carcere di panni. Come tutti i capi la sua prima preoccupazione è quella di designare il suo successore, cioè colui il quale avrebbe dovuto rappresentare la cosca, dirigere la cosca al suo posto in libertà e Francesco Pesce cerca di far, mette queste disposizioni su un pizzino, cerca di farlo andare all'esterno, vi farlo transitare all'esterno, un agente di polizia penitenziaria si accorge di questo passaggio di bigliettino fatto tra lui e un altro detenuto e lo sequestra, lo prende e lo sequestra, mi permetto di sottolineare che nel momento del sequestro Francesco Pesce ha delle parole piuttosto pesanti nei confronti dell'agente cercando di ottenere la restituzione di questo biglietto, comunque la sua distruzione è comunque il fatto che questa circostanza non emergesse. L'appartenente alla polizia penitenziaria invece ha operato in modo corretto, ha sequestrato il pizzino e è diventato oggetto poi di analisi da parte del ROS e dei carabinieri che hanno individuato tutti i soggetti citati, i compiti assegnati, le funzioni che questi sono stati chiamati a svolgere su incarico diretto di Rocco Pesce. Accanto a questo pizzino noi abbiamo utilizzato per questo provvedimento di fermo delle attività di intercettazione, delle attività di intercettazione di vario genere che avevano riguardato sia il gruppo Cacciola sia alcuni appartenenti alla cosca pesce e queste intercettazioni ci avevano consegnato due realtà parallele ma ugualmente significative perché da un lato ci hanno consentito di ricostruire momento per momento tutti i passaggi che hanno caratterizzato la vita di Maria Concetta Cacciola dal momento in cui ha subito tutte le pressioni, le vessazioni che l'hanno portata a tornare a Rosano che successivamente l'hanno indotta a capire quasi subito nei giorni successivi, siamo ad agosto 2011, nei giorni successivi al suo ritorno che la mafia non perdona certe scelte, l'andrangheta non concede benefici, non conosce la sospensione condizionale della pena e che nei suoi confronti era stato emesso un verdetto definitivo. Maria Concetta Cacciola ha paura, teme per la sua vita, chiama immediatamente dopo pochissimi giorni i carabinieri e comunica in modo chiaro, distinto, inequivocabile la sua volontà di fare ritorno in località protetta. I carabinieri si agiscono con assoluta tempestività, Maria Concetta non può partire subito in quei giorni perché vuole portarsi uno dei bambini, quello che è piccolo, in quei giorni alla febbre, chiede di dilazionare la sua partenza, di differire la sua partenza di pochissimo tempo ma come tutti sappiamo il 20 agosto viene trovata morta. Queste intercettazioni ci hanno consegnato il quadro che vi ha descritto il collega Creazzo delle vessazioni, delle immiliazioni, delle pressioni, anche materiali, fisiche, che sono state esercitate prima per ottenere il ritorno della donna a Rosanno e poi per ottenere dalla stessa una dichiarazione registrata in cui tornasse indietro sul contenuto delle sue dichiarazioni. Oggi noi siamo in grado di dimostrare in modo inequivocabile di che cosa sono frutto quelle ritrattazioni, che cosa significano, ma questa vicenda dimostra anche quanto sia importante la scelta che Maria Concetta Cacciola aveva fatto, quanto sia importante e significativa la scelta che Giuseppina Pesce ha fatto e le cui dichiarazioni vengono utilizzate anche in questo provvedimento e quanto queste scelte, quanto la scelta che hanno compiuto queste donne che vivono la stessa condizione di intranità non soltanto familiare ma anche contestuale all'Andrangheta di Rosanno, quanto queste scelte siano temute dall'Andrangheta, siano temute come risultato, siano temute come esempio che altre donne d'Andrangheta possono seguire e le cui scelte sarebbero dirompenti rispetto alla tenuta innanzitutto ideologica, concettuale del nucleo fondamentale dell'organizzazione che è il nucleo familiare. Le altre intercettazioni invece ci hanno dimostrato quanto questa cosca sia attenta, sensibile al profilo della sua sicurezza e in particolare ci hanno consegnato un'attività fondamentale anche se non è un'attività direttamente mafiosa che è quella del titolare di una ditta individuale di costruzione il quale era occupato a tempo pieno nel settore costruzione bunker, costruzione, manutenzione con l'auto di bunker, tant'è che in alcune intercettazioni siamo riusciti a seguire in diretta alcune interventi, alcuni spostamenti di soggetti che occupavano dal punto di vista abitativo questi bunker. Nel corso delle perquisizioni che abbiamo effettuato in esecuzione dei fermi abbiamo rinvenuto documentazione di rilevantissimo interesse investigativo nei confronti di un soggetto accusato di svolgere il ruolo di canale di riciclaggio di attività e soldi dei pesci abbiamo trovato una somma in contanti di 91.000 euro contenuta in una diciamo confezionata in un sacchetto a vuoto sottovuoto quindi pronta per essere occultata e poi successivamente riciclata. Questa documentazione è ovviamente già adesso oggetto di analisi e io sono convinto che ci porterà a ulteriori risultati. Grazie a tutti. Per questa azione assidua incessante ha a mio avviso depotenziato fortemente la costa pesce sia nella struttura militare sia nelle attività economiche che vorrei qui ricordare che dall'aprile del 2010 e a seguire a novembre 2010 ad aprile 2011 e ad agosto 2011 con l'arresto di pesce francesco sono stati eseguiti numerosi provvedimenti cautelari che ci hanno consentito di trarre in arresto oltre 75 appartenenti alla costa pesce e procedere al sequestro di pedi e di attività di impresa e commerciali per un valore stimato in circa 200 milioni di euro. Quindi questa attività va ascritta alle parti che continuano a lavorare sul territorio in direzione di quella costa e come dice il dottor Fessivini che sicuramente porterà questa azione ad altri risultati. Ringrazio signor Magistrati per le parole che hanno avuto nei gruppi dell'arma e i colleghi della Polizia per la collaborazione anche non solo nella base di indagini ma anche nell'attività esecutiva di questa mattina. Quindi accedo la parola anche al coordinatore. Il dirigente della parola, noi scogliamo l'occazione come procura, direi anche a nome della procura di talvi di dargli il benvenuto e mi auguro di continuare a risplopere i successivi del dottor Fessivini. Ringrazio le due procure per l'augurio e spero di essere all'altezza per cercare di far rimpiangere il meno possibile il collega Renato Cortese, a cui va il merito, unicamente al personale del commissariato di Gioia D'Auro in merito di questa indagine che non solo ne ho, sono 23 anni che ormai faccio Polizia giudiziaria e questa leggendo l'informativa l'ordinanza di custodia cutelare mi sono quasi commosso dalla vicenda della donna. vorrei sottolineare l'ottimo lavoro fatto sia da Polizia che dai Carabinieri per advenire la soluzione del caso che è stato ampiamente illustrato dai magistrati e quindi non mi di lungo sul punto. Grazie. Allora c'è qualche domanda? Stanno andando in onda un monitor, un video relativo alla cattura di pesce Francesco Narragosto dell'anno scorso. Il video è fatto in diretta nel momento che è depositato agli attenti. Posso chiedere una curiosità tecnica perché non mi pare che sia stata contestata l'istigazione al suicidio proprio in questi termini? Posso capire la differenza? Come mai la differenza? Giuridica. L'istigazione al suicidio è un grado doloso ed è necessario la cosciente volontà di avere indotto a suicidarsi una persona che ha comunque rafforzato. Qui noi abbiamo invece ipotizzato i maltrattamenti in famiglia seguiti da morte che è un reato che è pulito con vent'anni di reclusione. Il processo sarà celebrato, se gli indagati saranno riviati a giudizio, sarà celebrato in corte d'assise e che è il reato che secondo noi e secondo l'Ugifo lo Stato si attaglia in maniera perfetta a quello che è accaduto. Tra l'altro la Cassazione, aggiungo, ha più volte affermato che la morte anche da suicidio può certamente essere opera dei maltrattamenti. Quindi, grazie. Penso che la ricorda è questa ipotesi. Solo una domanda che riguarda invece la sorte dei figli della Cassiola che erano affidati tra l'altro i nomi, cioè le persone che sono state avventate. Una cosa per volta. Abbiamo intanto con questa indagine dimostrato che esiste un problema ma sotto questo profilo probabilmente le autorità anche giudiziarie e competenti se ne occuperanno, se ne occuperanno, ma una cosa per volta. In questo momento abbiamo fatto l'indagine e il processo di confronto. Se gli indagati di questi reati succederanno a chi è poco. Era aperta un'ingezza per il problema dei minori per capire che i figli non fossero già in modalità potente comunque con la Cassiola prima che la mette? No, no, no. Questo è un altro discorso. La Cassiola aveva... Ci vediamo con la Cassiola? No, no, no. Allora, esiste agli atti una dichiarazione di Maria Concetta che la Cassiola non appena è stata usurpa un attimo il campo della DDA e del servizio centrale di protezione ma sono atti che abbiamo anche nel nostro processo. Maria Concetta Cacciola ha dichiarato espressamente inizialmente perché inizialmente preferiva che i figli restessero a voi. E solo successivamente, ma non l'aveva ancora manifestato, avrebbe chiesto che che Dio... il ricongiungimento. Ma è una cosa che non è mai... che non è ancora accaduta. Quindi era stata una sua volontà quella di lasciare i figli presso l'amore. D'altra parte, se leggete la lettera che leggerete nell'ordinanza, la lettera di addio alla famiglia è lei stessa che affida alla madre e ai propri figli dicendogli a lei però di dargli un futuro diverso dal trattamento che essi genitori avevano riservato a lei. Dio... 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 e che servivano per lasciare delle chiare disposizioni alla cosca, soprattutto in direzione della successione. I due momenti fondamentali di Pizzino che sono stati analizzati riguardano uno, la parte meramente di Dragneto, ossia la sua successione, che era dal fratello che Giuseppe Pesce, anche lui latitante, attualmente ancora latitante, l'indicazione quindi anche delle persone che devono stare più vicine al fratello e peraltro facendo questo è molto attento, perché le persone che devono essere principali, le persone più strette, sono state fermate oggi, al fratello, sono prese ognuna da un ramo diverso della famiglia Pesce operante di Rosano, che voi sapete essere molto estesa, quindi anche garantendo gli equilibri all'interno della famiglia. La seconda parte di Pizzino invece riguarda la parte economica, ossia la gestione degli introiti della cosca e i pagamenti in sospeso da effettuare per conto della cosca. Questo è stato tutto ricostruito con nomi e cognomi e con i fermi che oggi ha risposto a direzione sospettuale. La vicenda, per certi versi assimilabili di Pizzino Pesce, emergeva anche un'attività borderline da parte degli avvocati della famiglia Pesce. In questo caso avete rilevato qualche condotta di pressioni? Abbiamo la posizione di due difensori al bagno della procura. Procuratore, il libro è scritto nel registro dei sindagati? No, 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 non c'era nulla. Procuratore, non ha risposto. No, non ha risposto. Sono scritti nel libro dei sindagati. Abbiamo rincorso due perquisizioni, abbiamo rincorso due perquisizioni e anche gli avvocati per migliorare la loro posizione. Procuratore, il 26 di agosto è stato incendiato l'auto di un agente di polizia penitenziaria. Ha a che fare? Sì, ha a che fare perché era l'auto dell'agente di polizia penitenziaria che ha operato il rinvenimento, il sequestro del biglietto che ha fatto il suo dovere, quindi ci fa anche piacere. In occasione di una conferenza stampa di qualche mese fa ci siamo dovuti occupare gli agenti di polizia penitenziaria che erano al servizio della cosca pesce che erano ristretti per reati di corruzione questa volta un appartenente alla polizia penitenziaria con la sua attività, con la sua, possiamo dirlo, senso del dovere ci ha consentito di acquisire quest'elemento importante ha subito immediatamente la ritorzione della cosca perché è stata bruciata l'autovettura segno evidente che ancora una volta il carcere quello ordinario evidentemente non è in grado di isolare i capi dal resto dell'organizzazione e di impedire che possano dare le disposizioni per questo tipo di attività segno di quanto sia importante poi altri tipi di regimi detentivi come il 41 bis, solo che per applicarlo è necessario ovviamente secondo la legge, le procedure, il decreto del ministro che richiede qualche giorno di tempo e ovviamente questo è successo diciamo nel periodo intermedio C'è stato l'intentativo di sviare le indagini da parte di apparati esterni alla cosca o di persone che hanno comunque tentato di dare una chiave di lettura diversa dello suicidio calciola No, non risultano dettativi di distanza Non so cosa si riferisca Non risulta la domanda Sì, è maliziosa, non la capisco la domanda Per quel che riguarda le mie indagini non ci sono dettativi di distanza Pignoli, Pignoli Ah, Pignoli sono liberi Il detenuto a quei pesci era la strada del pizzino Chi era, che ruolo aveva, come riuscì qua Avrebbe voluto far portare all'esterno Si parlava prima del detenuto Sì, sì, si parlava del detenuto ma ovviamente non è stato consegnato il pizzino non ha raggiunto il detenuto e quindi è stato sequestrato prima Cioè il tentativo era quello di investire un altro detenuto secondo una tecnica che è consolidata all'interno della città carcerale per poi farlo andare verso l'esterno Nel presupposto fondatissimo che i corrogui di Francesco Pesce fossero, come dire, più controllati rispetto a quelli di un altro detenuto non così oggetto di attenzione il pizzino è stato sequestrato prima Siamo finiti Grazie Una domanda, se si può, una curiosità sui procedimenti esterni a queste indagini L'unica di quest'ora aveva salutato il dottore Corteso e presentato il suo successore volevo chiedere al dottore Prestipino, anzitutto che pensava dell'ottimo lavoro dei colleghi di Calabria Ora questa indiscrezione su una sua destinazione all'Aquila un breve flash e al procuratore Pignatone se ci sta presentando il suo successore o se come molti credono è impossibile che sia un calabrese il suo successore visto le recenti vicende A questo minuto io sono il procuratore del regio Calabria quindi non ci può essere nessun successore dovrete godermi comunque sia la vostra opinione del dottore Pignatone la mia attività ancora per un po' non esiste allo Stato nessuna delitura del CSN per cui la sedia si possa ritare la caglia quindi le sue sono preoccupazioni che chi vorrà si vorrà più avanti grazie e questo è il dottore Prestipino facciamo dei pesci perché ne vogliono una alla volta una alla volta oppure no 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 una alla volta allora vi dovete allargare tutti ragazzi vi dovete allargare no non è difficile vi dovete allargare così non ce la facciamo il dottore Creazzo Angela vai Pignatone ok non è bravo dottore Creazzo l'operazione di oggi può ritenersi il rendiconto di un episodio che ha veramente toccato l'opinione pubblica si è una storia tristissima è una storia anche emblematica che offre anche lo spaccato di una situazione intrafamiliare che abbiamo ragione di presumere purtroppo non fosse non sia così rara almeno in certi ambiti in certe famiglie la storia di una persona che da di maltrattamenti non solo fisici ma anche psicologici soprattutto psicologici che ha subito per un lungo periodo di tempo e ha ritenuto che l'unica via d'uscita fosse la morte è una storia molto triste dottore Prestiglino voi come magistrati come dirvi ha pensato di aver fatto abbastanza per la Cacciola no la telecamera davanti vai Maria Concetta Cacciola al momento in cui ha chiesto di parlare con i magistrati è stata ascoltata è stata interrogata è stata immediatamente sottoposta al piano provvisorio di protezione tutti i comparti istituzionali hanno fatto tempestivamente tutto quello che dovevano fare ovviamente Maria Concetta Cacciola è una persona libera le indagini le intercettazioni che abbiamo effettuato hanno dimostrato dimostrano quante e quali pressioni quali vessazioni anche materiali questa donna abbia subito da parte del contesto di provenienza compresa la sua famiglia di origine per fare ritorno a Rosarno per interrompere il percorso collaborativo cosa che è temporaneamente accaduta quando Maria Concetta è tornata a Rosarno ha immediatamente percepito quale quale situazione di pericolo andasse ancora incontro e ha chiesto prendendo contatto con l'arma dei carabinieri di tornare in località protetta i carabinieri sono subito intervenuti per portarla in località protetta Maria Concetta Cacciola non ha non si è potuta spostare immediatamente perché questa volta aveva deciso di portare con sé i figli più piccoli ha chiesto di poter differire nel tempo il suo spostamento soltanto di pochi giorni i carabinieri ovviamente hanno acceduto a questa richiesta e poi nel frattempo è successo l'irreparabile il tipo di pressioni subite dimostra il tipo di vessazioni dimostra quanto questa scelta la scelta che ha fatto prima Giuseppina Pesce della scelta che ha fatto Maria Concetta Cacciola sia una scelta che l'Andrangheta teme teme moltissimo al di là delle evidenze processuali immediate perché sul ruolo delle donne nella famiglia di mafia si gioca la tenuta di tutta l'organizzazione mafiosa non solo a Rosario ma di convincere in mente il suicidio perché lei aveva già contattato i carabinieri e aveva espresso la volontà di fare al momento gli accertamenti anche autottici non danno negatività o segnali negativi rispetto all'ipotesi del suicidio che rimane ed è quella la realtà accettata se poi in futuro verranno fuori altre cose non si sa al momento le risultanze sono tutte univocamente per l'ipotesi suicidiaria ma è un suicidio che è stato provocato da una situazione di cappa psicologica insopportata per qualunque essere umano ci sono delle preposizioni appunto in corso negli studi legali posso solo confermare questo dato e posso dire quantità per quanto riguarda gli altri nove fermi un po' insipa sì abbiamo eseguito anche un provvedimento di fermi di alcuni soggetti nove che sono stati individuati sulla scorta di diverse risultanze di prova una di queste risultanze è il contenuto di un pizzino di un bigliettino che al momento diciamo che successivamente all'arresto di Francesco Pesce nel 9 agosto del 2011 al momento del suo ingresso in carcere il detenuto aveva cercato di far uscire all'esterno del carcere questo pizzino conseneva le disposizioni dell'allora reggente della cosca appunto Francesco Pesce nei confronti degli altri associati libri quindi il conferimento di cariche la desiluzione del suo successore disposizioni di ordine economico è merito dei carabinieri del rossa aver sottoposto ad un'attenta analisi questo pizzino aver individuato le persone che vi risultavano indicate aver capito compreso il contenuto delle disposizioni averle riscontrate con tutte le altre risultanze di prova e abbiamo ottenuto un risultato che si aggiunge oggi in modo brillante agli altri risultati ottenuti nei confronti della cosca pesce a partire ormai da due anni e che hanno portato prima all'arresto di decine e decine di appartenenti a questa cosca poi al sequestro di oltre 200 milioni di euro di beni e allo svolgimento dei processi perché i processi nei confronti della cosca sono tuttora in fase avanzata il giudizio abbreviato si è concluso con danni importanti ed è in corso di quasi bene dottore prestivino non serrà di pignatone 99% andrà a Roma lei che cosa fa? non parliamo dei pesce grazie 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 mnews.it channel l'informazione ha una sua prospettiva